Non solo tornano i turisti russi in Liguria segnando un incremento del 24% secondo l'ultimo rapporto dell'osservatorio turistico regionale, ma i dati elaborati da Yandex, principale motore di ricerca russo, segnalano anche un incremento delle ricerche online relative a Genova, con una crescita di circa il 50% tra il mese di maggio e quello di giugno. Soddisfazione è stata espressa dall'associazione Italia-Russia che evidenzia come sia importante che i russi amino così tanto Genova, in quanto ciò rappresenta l'apprezzamento dei turisti provenienti dall'Europa dell'Est per quanto riguarda le offerte di mare, bellezza ambientale, arte e tradizione, ma anche di oggetti di lusso e di artigianato. Sul fronte dei consumi, dati forniti dal Global Blue relativamente al tax-free shopping, documentano come i russi siano i turisti con la maggiore capacità di spesa.